Grazie a tutti. È stata un'assemblea ricca di spunti, di idee, di provocazioni, di critiche, anche qualche eccesso dal mio punto di vista, ma i giovani si sa sono pieni di energia, ho sentito tanta energia e questo mi ha fatto molto piacere. Qualche eccesso, questo qui, l'Europa non è né nazista né comunista, l'Europa è una struttura inefficiente, preda delle lobby di potere e degli interessi, questo sì. E' per questo che va cambiata. Non è un'Europa ideologica o figlia delle ideologie, è ben peggio, perché le ideologie almeno avevano una loro dignità, avevano dietro di sé un'utopia, un sogno. Oggi non c'è più. L'Europa è l'Europa dei lobbysti, è l'Europa dei bariomonti, è l'Europa dei banchieri, non è l'Europa dei popoli, non è un'Europa ideologica, ma è comunque un'Europa che noi vogliamo cambiare profondamente. Mi è piaciuto, dicevo, il dibattito, perché ho sentito tutte queste cose e ultimamente mi è capitato di partecipare a assemblea e a riunioni della Lega in cui si parlava più di Freud che di Sun Tzu, l'arte della guerra. Era più una seduta di psicanalisi che cosa dobbiamo fare per realizzare il nostro grande progetto. Oggi ho sentito questo e questo mi ha riempito il cuore di gioia, perché è da qui e da riunioni come queste e da assemblee come queste e da ragazzi e ragazze, pieni di entusiasmo, che io mi convinco che la Lega ha un grande futuro. Qui passa il futuro della Lega, voi siete il futuro della Lega, i giovani sono il futuro della Lega. Molti di voi quando la Lega è nata non erano ancora nati, io c'ero sin dalle prime fasi, anzi prima ancora che la Lega cominciasse, le ho passate tutte queste fasi. La fase dell'indipendentismo, della secessione, della proclamazione di indipendenza fatta a Venezia, io ho letto la proclamazione di indipendenza fatta a Venezia. Poi è seguita la fase del governo romano, con Berlusconi, Forza Italia, Enne, il PDL, oggi c'è una fase nuova, quella che è iniziata proprio un anno fa, il primo di luglio con il congresso federale, prima al nord, macro regione. Sono tutte fasi che ci stanno e che proseguono l'azione politica della Lega, però non bisogna fare confusione, non dovete confondere la strategia e la tattica. La strategia non è cambiata, continua ad essere quella scritta nell'articolo 1 della Lega, l'indipendenza e la parola. Il resto è tattica, è come faccio ad arrivare, vado di qui o vado di là, vado di su o vado di giù. E' importante la tattica, ma non deve diventare tatticismo fino a se stessa. Io governo la regione Lombardia, non per governare la regione Lombardia, certo per dare aiuto alle imprese, ai giovani, per realizzare concretamente le cose che abbiamo scritto nel programma, ma il mio obiettivo è di fare in modo che assieme a Cota, Zaia, alle altre regioni, agli altri governatori, si formi la grande regione del nord, la macro regione del nord, che è la Padania. Questo è l'obiettivo, questo è il motivo per cui abbiamo vinto le elezioni. E chi mette in contraposizione, prima al nord, con la Padania, o non ha capito bene o fa finta di non capire. La strategia e la tattica, ricordatevi. Due anni fa, ormai, sì, due anni fa, a Pontida, ho lanciato io l'immagine dei papari sognanti, che Lucio ha rievocato qua, no, lui l'ha rievocato, Matteo, barbari sognanti, i miei dioscuri, barbari sognanti. È una bella immagine, perché racchiude in sé le due componenti essenziali che noi abbiamo, quella di essere barbari, cioè di essere pieni di energia, di lottare, di aver voglia di lottare, ma anche il sogno, l'obiettivo, non la lotta a fine se stessa, e soprattutto la strategia e la tattica. Se no, come successe con i barbari, che vennero sconfitti dai romani, succederà anche a noi. Perché vennero sconfitti dai romani? Perché i romani avevano la logistica, cioè l'organizzazione, cioè la tattica. I barbari nostri avevano il grande sogno, ma gli mancava questo. Noi dobbiamo tenere insieme le due cose. È difficile, è quello che Berlinguer chiamava partito di lotta e partito di governo. Mio compito è quello di fare la sintesi di queste due componenti, non sono due anime, non sono in contrapposizione. Ho sentito, e anche qui lo metto nella categoria degli eccessi, attaccare chi sta al governo, chi rappresenta la lega nelle istituzioni, è sbagliato. Tutti dobbiamo fare, ciascuno ha la propria parte, ma condividendo l'obiettivo comune, che è quello scritto nell'articolo 1 dello Statuto. È questo che io dico, chi non è d'accordo su questo se ne può andare. E lo ripeto e lo ribadisco. Questo è l'obiettivo. Come si ragiona? Come si ragiona? Attraverso varie strade. Quello che ho sentito oggi qui mi fa pensare che questo schema si possa riproporre, che sia utile pensarci. Io rappresento l'azione di governo. Io esprimo la lega che cerca di arrivare all'obiettivo attraverso l'azione di governo. Il governo del nord. Strappando a Roma i nostri diritti, combattendo contro Roma e contro questo governo. Questo è il nostro nemico. Questo governo del sud. Questo è un governo del sud. Quello è il nostro nemico. Non all'interno di una lega che inizia a fare questa parte. Quello è un po' di farlo. E lì dobbiamo concentrare il discorso. Io cerco di farlo da una posizione di governo, assieme agli altri governatori, assieme ai nostri sindaci guerrieri, a chi rappresenta il progetto, la via istituzionale, la via riformista. Non è facile, anche perché abbiamo degli alleati. O meglio, avevamo degli alleati. Perché ho sentito Berlusconi dire che il Pdl non c'è più, che ritorna Forza Italia, che il Pdl sarà un contenitore. Io lo dico subito, a scaso di equivoci. Noi non siamo interessati a contenitori, siamo interessati al contenuto. Io sono stato eletto direttamente dal popolo lombardo, io sono il governatore della Lombardia, e quindi io ho la responsabilità di prendere le decisioni. e le decisioni che vanno in quella direzione che ho indicato prima, bene. Se qualcuno si mette contro, si mette di traverso e pensa di condizionare la Lega al governo della Regione per altri scopi, affari o cose del genere, ha capito male. Un secondo dopo si va tutti a casa. E se vi conoscete. Io penso che voi abbiate questo compito straordinariamente importante nella Lega di rialzare la bandiera dell'indipendenza, dell'indipendentismo. La via rivoluzionaria, che non vuol dire prendere i fucili e mettersi a sparare, facile, troppo facile, ma non si va da nessuna parte. La via rivoluzionaria è quella di affermare i contenuti, di affermare i principi, di non cedere, di fare la coscienza critica di chi sta al governo, questo sì, della Lega di governo, di richiamarla quando c'è un eccesso di concessione agli alleati, quando il compromesso che è intrisico nell'azione di governo fa perdere di vista l'obiettivo, quando la tattica diventa tatticismo. Voi siete la coscienza critica di chi sta al governo. Se questo compito verrà esercitato, io penso che tutte le nostre battaglie fatte fin qua avranno un senso e avranno un seguito, che recupereremo l'entusiasmo, le nostre bandiere, che non sono state mai nate, sono ancora lì, abbiamo passato brutti momenti, ma quella fase è chiusa, la fase dei bel sito, dei cerchi, quella fase è chiusa, finita, morta, sepolta. Abbiamo davanti un grande futuro, è una grande prospettiva, e grandi spazi politici, perché i partiti di Roma, i partiti tradizionali, si stanno disfacendo. Il PDL non esiste più, non esisterà più fra qualche giorno, e noi cosa facciamo? Abbiamo la grande opportunità di entrare lì, di conquistare quei consensi, perché noi non abbiamo bisogno di cambiare nome, noi non ci vergogniamo del nostro nome, lega nostra indiscendenza, che è la padania, e sappiamo di imparare le bandiere, sappiamo di vedere le bandiere, le nostre bandiere, questa è la lega di diritto. Io sono molto soddisfatto di questa giornata, voglio ringraziare Lucio Brignoli, Eugenio Zofili, per l'egregio lavoro che hanno fatto, dove sono? Sono già andati in pensione, e voglio fare gli auguri di buon lavoro a Simone Parigi e a Matteo Mognaschi, vi aspetto a un compito difficile, un compito complicato, ma entusiasmante. Oggi ho sentito tanta energia, e vorrei sentire questa energia, ovunque, ho sentito parlare di organizzare eventi, il territorio va risvegliato, per l'eggio è attrito a questa terra. qui sono andati, e così sentite la gioche, a lleva PAVota της, a più a più a meno e a più a meno,